Rimarrà così, ancora per un anno, come la si conosce da sempre, la gelateria Puntalido arriva. In attesa della ristrutturazione prevista per fine anno, che ne cambierà radicalmente i connotati, infatti, l'esercizio pubblico è stato riaperto da qualche giorno con la stessa gestione dello scorso anno, affidata a Stefano Barbieri. Una scelta quasi obbligata, visto che sarebbe stato un peccato perdere la stagione da parte della proprietaria, ovvero la società Hotel Lido Palace SPA, controllata dalla Lido di Riva SRL, a sua volta controllata dall'amministrazione comunale. La gelateria Puntalido, se andrà avanti il progetto di demolizione e ricostruzione prefigurato dall'amministrazione municipale Rivana e dalla società Elido, dal 1 novembre sarà demolita e rifatta con un investimento di oltre un milione di euro. Il condizionale è d'obbligo, viste le perplessità sollevate da alcuni rivani, in particolare dall'associazione culturale Riccardo Pinter, che ritiene la gelateria Puntalido un patrimonio storico della comunità da non cancellare il nome della modernità.